Stasera, seconda notte di Champions League con protagonista la Juventus. La squadra di Allegri sarà ospite dell'Atletico Madrid di Simeone alla vincente Calderon della capitale spagnola. I padroni di casa puntano tutto sulla velocità ed i calci di punizione da fermo per battere i bianconeri. Il tecnico Allegri chiede il massimo ai suoi giocatori pur ammettendo le difficoltà che si troveranno di fronte. L'obiettivo è il passaggio al secondo turno. Avvio della gara alle 20.45.